Ciao a tutti, vediamo come possiamo acquistare Ghostbusters Spirits Unleashed a basso prezzo Sotto in descrizione trovate già i link che puntano a questi store e anche di più Per acquistare risparmiando, cerchiamolo quindi Ghostbusters Spirits Unleashed Eccolo qua, perfetto, l'ha già trovati, mostra tre risultati Al momento noi non possiamo acquistare nessuno dei tre prodotti Va bene che sono per Xbox, noi lo vogliamo per Xbox, ok? Il problema è che la chiave, la vedete, è Argentina, Stati Uniti e Turchia Quindi noi non potremmo riscattarlo, vi faccio un esempio Vedete che la key ce la dà come Argentina e ci dice che non può essere attivata in Italia Perché a noi interessa tutto ciò che ha come chiave, globale, Europa o Italia, nient'altro Ok? Quindi assicuratevi di guardare sempre questa parte qua o la chiave qua in alto Assicuratevi di guardare la piattaforma, mi raccomando, e la guida all'attivazione Nel caso abbiamo registrato quasi tutte le guide di attivazione dei vari codici per le piattaforme Ok? Questo è ciò che dovete controllare Andiamo su Instant Gaming, vediamo se ce l'hanno già Ghostbusters, Spirits Unleashed, eccolo qua Premo Al momento non si può ancora acquistare Al momento in cui sto registrando Voi comunque fate un tentativo più avanti Quando il gioco sarà uscito o sicuramente più vicino alla data di rilascio E niente, solite cose da guardare Assicuratevi di guardare la piattaforma che poi ci sarà Più avanti vi metteranno qua come riscattare il gioco Una volta che sarà uscito E poi qua, vedete, non c'è scritto niente vicino Perciò vuol dire che è globale Mentre invece su Eneba vi scrivono proprio global Qua invece su Instant Gaming non ve lo mettono Se c'è un limite ve lo scrivono Vi dicono Europa, Stati Uniti, America Latina, eccetera, eccetera Ok? Questo è quanto Se avete bisogno di altre guide vi basta lasciare sotto un commento Ciao ciao